E ora un commento sull'esito del voto da parte dell'assessore provinciale di Venezia, Giacomo Gasparotto. Sentiamo. Giacomo Gasparotto, assessore provinciale di Venezia, anche con lei affrontiamo il tema del post-voto. Notizia che abbiamo dato venerdì, la Corte dei Conti ha decretato Zaia, ufficialmente governatore della regione. Nella prima uscita del nuovo governatore del Veneto è venuta al Vini Italy con il Presidente della Repubblica. Nel Veneto orientale, secondo lei, come sono andate le cose per il PDL, il suo partito? Diciamo che il PDL si è comportato bene. Sappiamo che come provincia di Venezia era quella che era più in sofferenza, perché sapete che è una provincia notoriamente di sinistra. è la prova che comunque l'unico comune in cui Zaia, proprio in città, a Venezia, non avrebbe vinto. Quindi le difficoltà sulla provincia di Venezia ci sono. Il PDL si è comportato bene, soprattutto anche nel Veneto orientale. Quindi anche il distacco dalla Lega è rimasto un distacco praticamente contenuto. Siamo praticamente alla pari e questo si fa ben sperare, non tanto per la competizione che c'è tra PDL e Lega, quanto che si ragiona a forze paritarie e quindi secondo me si fa anche meglio gli interessi della nostra comunità. A Portogruaro, PDL primo partito, il sindaco però lo fa Antonio Bertoncello. Sì, a Portogruaro, noi in provincia di Venezia andavamo al voto su quattro comuni. Partivamo da tre comuni amministrati del centro-sinistra e uno del centro-destra. Siamo riusciti a prendere Torri di Mosto, a prendere Dolo, che erano amministrati del centro-sinistra. Non siamo riusciti a mantenerci Cavallino, purtroppo lì c'è stata tre liste, quindi col sindaco uscente che ha presentato una lista... Tre liste con due liste di centro-destra. Due liste di centro-destra e Portogruaro che è rimasta al centro-sinistra. Questa forse è la cosa che dispiace e dispiace soprattutto nei confronti dei cittadini portogruaresi perché secondo me hanno perso una grande occasione, che era quella di uniformare la politica regionale e provinciale a quella del territorio portogruarese. A livello regionale, mi scusi Assessore, a livello regionale i cittadini di Portogruaro hanno premiato il centro-destra con una maggioranza assolutamente schiacciante. E alle comunali che non è andata bene. Sicuramente sì. Lì io ho letto, ho sentito dichiarazioni e non mi voglio mettere nel partito lega, non lega. Lì i problemi sono tanti e a Portogruaro diversi. Ognuno deve fare un buon esame di coscienza. Bertoccio l'ha vinto, ha vinto bene. E' inutile che ce lo nascondiamo. E voi collaborate con lui? No, e noi ovviamente non è che collaboriamo con lui, collaboriamo con la città di Portogruaro e con i cittadini di Portogruaro. Insomma, questo è in dubbio nell'interesse della collettività.